ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo video unboxing pokemon qui sul mio canale mi raccomando prima di iniziare l'unboxing ricordatevi di iscrivervi al canale è gratuito mi date tutto il vostro supporto non vi costa veramente nulla se non un secondino ma mi date veramente un grandissimo supporto allora raga oggi ci andiamo ad aprire la collezione di pikachu v questo bel pikachu promozionale che dovrebbe fare un fulmine esplosivo credo forse il colpo scintilla e questo mimikyu veramente molto interessante poi lo andiamo a vedere insieme allora andiamo a leggere il contenuto abbiamo ovviamente la carta promozionale di pikachu quella di mimikyu la jumbo di pikachu v 4 buste e la carta codice la collezione invece ci dice carico di elettrizzante energia pikachu v scende in campo con tutta la determinazione che serve per affrontare i pokemon più temibili questo caparbio pokemon vi è pronto a dare una scossa al tuo mazzo come carta promozionale olografica insieme al piccolo e inquietante mimikyu che gli fa da spalla con una carta olografica tutta per sé e non è finita troverai pikachu v anche in versione gigante e tante altre e tante altre carte nelle buste di espansione del gcc pokemon allora andiamo a vedere insieme vedo astri lucenti forse si dovrebbe essere astri lucenti e regno e stili di lotto scusate stili di lotto e regno glaciale allora andiamo lì a vedere insieme i nostri pacchetti stili di lotto confermo regno glaciale confermo e due di astri lucenti buono allora vi faccio vedere subito la jumbo che ce l'abbiamo qui a portata di mano veramente figa bella artwork di pikachu bello bello allora questa poi ce la lasciamo di sfondo abbiamo le due carte promozionali con il codice allora prendiamo il mimikyu che è veramente interessante cioè se guardiamo la l'abilità i pokemon nella panchina del tuo avversario non possono essere curati raga questa carta se giocata con una buona combo potrebbe fare i solchi allora andiamo a proteggere il mimikyu lo lasciamo qui togliamo la protezione vi regalo ovviamente il codice eccolo qua e questa invece è la promo di pikachu che andiamo a proteggere eccola qua fulmine esplosivo 100 più puoi scartare tutte le energie elettro da questo pokemon se lo fai questo attacco infligge 120 danni in più raga 220 non è non è proprio una stupidata eh allora pacchetti astroducenti astroducenti stili e regno glaciale le alternative si possono trovare in tutte e quattro ovviamente partirei da stili di lotta che è quello un pochino più bruttino di setta a parer mio anche regno glaciale non è che mi faccia impazzire però comunque andiamo a vedere se almeno questi quattro pacchettini ci regalano qualcosina allora questo qua se non sbaglio uscirà di domenica esce di domenica come video bonus vi ricordo che da un pochettino di tempo che le pubblicazioni le ho spostate di martedì e di venerdì sto cercando di capire qual è il l'orario più ottimale sto provando alle 19 comunque voi fatemi sapere sempre se vi può andar bene oppure se vorreste che cambiassi i giorni orario e quant'altro comunque questo invece siccome è è comunque una collezione molto molto tranquilla quattro bustine molto veloce ve lo faccio uscire come video bonus così nelle pubblicazioni di martedì e di venerdì ci sbustiamo qualcosina di più interessante allora andiamo a vedere la reverse che è un sis lipede e un lorantis raro normale la prima di stili è vuota allora continuiamo con regno della ciale ragazzoli vi ricordo ovviamente anche il codice sconto gap 15 per il 15 per cento di sconto sempre su tutto il carrello su stark grading mi raccomando perché stanno facendo veramente tante tante iniziative addirittura sono arrivati a vendervi le carte che gradate da loro direttamente sul loro sito intanto vediamo qui se riesco a distruggere tutto quindi raga fateci un salto trovate tutto in descrizione seguitemi su instagram per non perdervi tutte le news che vi do durante i giorni durante le settimane anche per le news dal mondo pokemon vi faccio vedere le nuove uscite vi faccio vedere gli spoiler dei prossimi set e tanto 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 allora ghastly blitzel snover vediamo 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 swirlyx abbiamo un eracross veramente molto bello e poi un rillaboom holo allora rara normale holo in teoria adesso dovremmo trovare qualcosina di interessante e poi ovviamente vi ricordo anche gab 3 invece sempre come codice sconto sul the poke hunter mi raccomando adesso che si sta avvicinando l'uscita siamo quasi alle porte domenica no non so che il numero sia domenica però non credo sia ancora uscito e quindi si avvicina l'uscita di pokemon go mi raccomando usufruite anche di quel codice allora prima di astre lucenti speriamo di droppare qualcosina qui luxio in astre lucenti non c'è stavano le chr non me le ricordo allora turtwig buizel giusto per sapere se devo andare piano alla reverse comunque bene andiamo ok qui non c'è niente deden e ordini del capo un'altra holo bella questa però non ci interessa ultimo pacchetto artwork di charizard e chiudiamo il video molto molto velocemente raga poi vi posso spoilerare che martedì se tutto va bene fornitori e quattro ma donna hanno stampato male pure il codice qua se tutto va bene esce il l'unboxing del box giapponese di pokemon go raga non vedo l'ora allora fuoco flotzal sigilif facirisu electabas ou lucia buizel gible trapinch berri charizard charizard v nel pacchetto di charizard abbiamo trovato un piccolo charizard contentissimo va benissimo chiudere con una anche centrato bene chiudere con una v e con un charizard non è affatto scontato con tutte le carte che ci sono all'interno di questo set a la fortuna ogni tanto gira dai non è ovviamente tra i più rari perché ci sono i vi star vi vi full art e quant'altro ma siamo contentissimi grazie veramente a questa collezione che ci ha regalato un bellissimo charizard ragazzuoli io vi ringrazio di nuovo sto facendo dicendo 10.000 volte grazie per essere arrivati fino a questo punto del video mi raccomando lasciate un like un commento e iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo unboxing ciao ragazzi ciao